Qual è il vostro pianeta preferito? Il mio è senz'altro Giove. Lo trovo affascinante con i suoi colori meravigliosi e le sue fantastiche striature che ricordano davvero il quadro di un pittore astratto. Ed è per questo che sono particolarmente felice oggi di potervi presentare questo video. Mi chiamo Alessandra Raffaele, sono qui con il mio fidato telescopio, sono il presidente dell'associazione Polaris, un'associazione di divulgazione no profit per la divulgazione dell'astronomia e vi propongo oggi questo video della rassegna Astro Cocktail. Vi ricordo che potete seguire e rivedere tutti i video della rassegna sul nostro canale YouTube che si chiama Astrofili Polaris. Potete iscrivervi gratuitamente al canale per non perdervi più nessun video di astronomia. Il relatore di oggi si chiama Andrea Macciò, è uno studente che ha appena concluso il terzo anno al liceo scientifico Gian Domenico Cassini di Genova. Andrea partecipa anche al programma di alternanza scuola lavoro Polaris Cassini, è appassionato di astronomia da sempre, sin da quando era molto piccolo. Pensate, recentemente si è comprato anche lui un telescopio per poter coltivare meglio questa sua passione. Andrea ha anche frequentato quest'anno all'inizio del 2020, prima che iniziasse l'emergenza coronavirus, il nostro corso di astrofotografia presso la nostra sede. Lui ci illustrerà con delle bellissime slide che ha preparato, ci illustrerà con la sua voce una piccola monografia del pianeta Giove, riassuntiva di tutte le caratteristiche principali di questo pianeta. Noi di Polaris, inutile dirlo, ci teniamo sempre tantissimo a incoraggiare i giovani che sono appassionati di astronomia o anche di divulgazione scientifica in generale. Quindi non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento a giovedì prossimo per il nostro prossimo video e brindando con voi nella migliore delle tradizioni dei nostri astro cocktail, io vi ricordo di bere con moderazione ma di esagerare sempre con l'astronomia. Cin cin! Buongiorno a tutti nella puntata dell'astro cocktail di Polaris di stasera. Vedremo le caratteristiche di Giove e dei suoi satelliti, la storia delle osservazioni e le varie missioni spaziali che ci sono state e ci devono essere. Allora, cominciamo guardando i dati intanto. Il volume è circa 1300 volte quello della Terra e la massa 318 volte. Il diametro equatoriale è più grande di quello polare, infatti c'è uno schiacciamento. Lo schiacciamento è appunto un dato che indica quanto un pianeta è schiacciato. Lo schiacciamento di una sfera è 0, lo schiacciamento di un disco è 1, quindi si può dire che Giove tende ad essere una sfera, anche se poi non lo è. Poi abbiamo la superficie, la densità media, che è quella dell'acqua è 1, quindi è un po' più denso dell'acqua, la densità molto bassa rispetto a quella della Terra perché è gassosa Giove prevalentemente, la temperatura superficiale media di meno 121 gradi Celsius, l'accelerazione di gravità, la velocità di fuga che è la velocità che deve raggiungere un corpo, per potersi allontanare da Giove, quindi qui quasi 60 km al secondo, e la composizione atmosferica prevalentemente di idrogeno e di elio è un per cento di altri elementi, tra cui metano e ammoniaca, quindi questa composizione è abbastanza simile a quella del Sole. La distanza media dal Sole è di 778 milioni di chilometri, che sono circa 5,2 unità astronomiche. È molto breve il periodo di rotazione 9 ore e 50 minuti, meno di 10 ore, e il periodo di rivoluzione invece è 11,86 anni. La velocità di rotazione è 12.000 metri al secondo e la velocità orbitale, quindi la velocità di rivoluzione, è 13 km al secondo. Ha 79 satelliti, da confermati 79, da quanto ne sappiamo noi, 4 anelli e l'assa inclinata di 3 gradi. Adesso vediamo la storia delle osservazioni. Giove è il quarto oggetto più brillante del cielo, quindi è stato osservato fin dall'antichità dagli astronomi moviglionesi e cinesi. Cioè è da dire che Gande, che era un astronomo cinese, era riuscito ad osservare Ganimede, un satellite di Giove, che poi vedremo essere scoperto nel 1610 da Galileo, tra questi quattro satelliti, che poi sono dei satelliti galileiani. Era riuscito ad osservare Ganimede a occhio nudo, oscurando Giove con un albero o qualcosa del genere. E inoltre gli astronomi di queste civiltà avevano studiato il periodo di rivoluzione e sapevano esattamente dove era nel cielo nei vari giorni. Nel 39 Francesco Fontana, con un telescopio di sua produzione, ha scoperto le bande dell'atmosfera del pianeta e nel XVII secolo Gian Domenico Cassina determinato il periodo di rotazione, ha scoperto la rotazione differenziale delle varie fasce e ha studiato il movimento dei quattro satelliti galileiani. A destra adesso vediamo la rotazione differenziale delle varie fasce, che è la diversa velocità di rotazione delle varie fasce di Giove. Nel 1831 l'astronomo Schuasse ha pubblicato la prima carta di Giove, dove era stata disegnata anche la caratteristica grande macchia rossa. Un astronomo statunitense ha scoperto la presenza di un quinto satellite che viene chiamato Amaltea. Nel 32 Wilt ha identificato la presenza di ammoniaca e metano, che sono quei due elementi che avevamo visto prima dell'1% dell'atmosfera di Giove, meno dell'1% anche. Nel 38, questo è importante, vennero osservate tre tempeste posizionate sotto la grande macchia rossa, che poi si sono piano piano unite in un unico ciclone fino al 2000. Questo ciclone si chiama ovale BA, oppure in modo meno formale, piccola macchia rossa, perché adesso si sta colorando di rosso, prima era bianco. Nel 1994 è stata osservata la collisione tra dei frammenti di una cometa e Giove. Questo è stato importante perché ci ha reso possibile anche studiare la composizione del pianeta. La grande macchia rossa, GRS, ho scritto perché è la sigla che corrisponde a Great Red Spot dall'inglese. Allora, prima facciamo la distinzione tra cicloni e anticicloni. I cicloni ruotano nel verso di rotazione del pianeta, quindi in senso anti-orario nell'emisfero nord e in senso orario nell'emisfero sud, gli anticicloni il contrario. Quindi la grande macchia rossa, dato che si trova a 22 gradi sud, quindi nell'emisfero sud, e ruota in senso anti-orario, è un anticiclone. Le dimensioni si stanno riducendo, sono molto variabili, però si stanno riducendo, di circa 1000 km ogni anno. Comunque l'altezza di questa, cioè che qui si vede che è ovale, poi adesso piano piano si sta arrotondando in un cerchio, si sta diventando un cerchio. Comunque l'altezza è più grande del diametro della Terra. Poi è stato dimostrato che è più fredda delle tempeste, delle aree circostanti, quindi si trova più in alto di circa 8 km. Ecco, i satelliti si dividono in satelliti regolari, che sono caratterizzati da orbite prograde, poco inclinate rispetto al piano dell'equatore, del pianeta, e quasi circolari. I satelliti regolari invece sono tutti gli altri satelliti, quindi possono essere di qualunque forma dell'orbita, inclinazione, prograda, retrograda, e anche di qualsiasi dimensione. Vediamo adesso i satelliti regolari. I satelliti regolari si dividono in due gruppi, il gruppo di Amaltea, che è composto da questi quattro satelliti, Mede, Amaltea, Aldrastea e Tebe, e i satelliti Galileiani, che sono quei quattro che abbiamo visto prima essere stati scoperti da Galileo Galilei, che sono io, Europa, Ganymede e Callisto, che vediamo qui in foto. Allora, Ganymede è il satellite più grande dell'intero sistema solare, e è così grande che supera per dimensioni Mercurio. È composto principalmente da silicati, ghiaccio d'acqua e il nucleo è invece fatto di ferro. Possiede una tena atmosfera di ossigeno in forma atomica, molecolare e sotto forma di ozono. E la pressione in superficie è di 2,5 per 10 alla meno 5 microbar. Callisto. È il secondo satellite più grande di Giove, dopo Ganymede. Ha più o meno le stesse dimensioni di Mercurio ed è composto principalmente da rocce e ghiaccio d'acqua. E il nucleo invece è probabilmente di silicati. Ha una sottile atmosfera di anidride carbonica e ossigeno allo stato molecolare. Io. È l'oggetto più attivo geologicamente del sistema solare. Infatti ha più di 300 vulcani attivi. Ma cosa è dovuta questa attività geologica? È dovuta alla forza mareale che viene esercitata su Io, dagli altri satelliti galileiani e soprattutto da Giove, che è dovuta anche all'eccentricità orbitale di questo pianeta, di questo satellite, scusatemi. Infatti per questi fattori la crosta di questo satellite è continuamente deformata e quindi gli attriti lo scallano e quindi si creano i vulcani. Il nucleo è di ferro e la crosta è composta da silicati. Europa. Europa è composto principalmente da silicati e ghiaccio d'acqua e il nucleo invece è di ferro e nickel. Anche questo satellite presenta una tena atmosfera di ossigeno e in profondità è probabilmente presente un oceano di acqua liquida che è riscaldato dalla forza mareale dovuta all'orbita del satellite. Perché la forza mareale crea enormi attriti che riscaldano all'interno questo satellite e quindi creano al 200 km di profondità un oceano. I satelliti irregolari quindi abbiamo detto che ci sono tutti gli altri satelliti. Ecco arriviamo adesso alle missioni spaziali. Allora la prima missione che è passata da Giove è stata la Pioneer 10, la prima sonda, è stata la Pioneer 10 nel dicembre del 73. La Pioneer 10 ci ha fornito le prime immagini di Giove e dei satelliti galileiani e anche ha rilevato il campo magnetico e studiato l'atmosfera. Questa è una delle immagini che ci ha fornito la Pioneer 10. La Pioneer 11 un anno dopo ci ha fornito le foto della grande macchia rossa, ha osservato le regioni polari, questo in foto mi sembra che sia il polo nord, di cui sotto si vede la grande macchia rossa, ha osservato le regioni polari come ho detto, e ci ha permesso di calcolare la massa di Callisto. Poi le missioni Voyager 1 e 2 ci hanno fornito immagini a una risoluzione maggiore e questa foto che adesso vediamo ferma è quella che vi ho mostrato prima per farvi vedere la rotazione differenziale delle varie fasce, quindi non è una foto in realtà ma è una serie di foto, io quindi ho messo una delle tante. Poi con la Voyager 2 abbiamo scoperto il vulcanismo su Io, abbiamo scoperto l'esistenza degli anelli, abbiamo avuto immagini di Europa ed è stato possibile misurare la temperatura e la velocità della grande macchia rossa. Poi c'è stata la missione Ulisses che è importante perché è passata a latitudini che non erano mai state percorse dalle altre sonde. Poi abbiamo la sonda Cassini nel dicembre del 2000 che ci ha fornito delle immagini a una risoluzione altissima ed è passata da Giove mentre era in viaggio verso Saturno. Questa foto che vediamo è un'immagine presa dal polo, da uno dei due poli. L'ultima che in questo elenco è la New Horizons che è passata dai satelliti Galileiani da Maltea mentre era in viaggio verso Plutone e ha raccolto immagini dell'ovale BA, quindi della piccola macchia rossa e basta. Su questo non c'è altro di importante da dire. Poi la missione Galileo, questa invece è molto importante perché ha orbitato Giove per più di sette anni raccogliendo un enorme numero di dati e anche assistito all'impatto tra Giove i frammenti della cometa. Ha lasciato cadere nel 1995 una sonda atmosferica che ha raccolto dati riguardanti la temperatura, la velocità dei venti, la pressione e l'irraggiamento solare. Ha lasciato cadere all'interno di Giove. Dopo circa 57 minuti e 36 secondi si è fuso vaporizzata mentre era sottoposta a una pressione di circa 22 bar a una temperatura di 153 gradi a circa 132 chilometri sotto la sommità visibile delle nubi, quindi sotto la superficie di Giove. E poi anche la sonda Galileo ha fatto probabilmente, non probabilmente, sicuramente la stessa fine di questa sonda atmosferica. La missione Juno è stata lanciata nel 2011 da Cape Canaveral e ha raggiunto Giove nel 2016. Probabilmente la missione si concluderà nel 2021 facendo la stessa fine della sonda Galileo. Fine che sarà volontaria perché si vogliono evitare delle contaminazioni. Perché l'obiettivo è studiare la magnetosfera, la pulsera di Giove e misurare la massa e le dimensioni del nucleo del pianeta. Quindi non si vogliono anche contaminare i satelliti. Qui ho messo la traiettoria che ha seguito e questo tipo di traiettoria si chiama fionda gravitazionale. Perché anche se i tempi sono maggiori, infatti qui vediamo che ci ha messo 5 anni a raggiungere Giove. Si consuma molto meno perché si sfrutta la forza di gravità per arrivare a un pianeta più lontano. Poi concludo la presentazione con la missione JUIS che la sigla è Jupiter Ice Moons Explorer, quindi JUIS. Da qui ho iniziato le lettere. è stata iniziata a costruire, è una missione futura, è stata iniziata a costruire da poco la sonda nel settembre 2019 in Germania e sarà lanciata probabilmente nel 2022 e arriverà a Giove nel 2030. Sì, diciamo che l'obiettivo è la ricerca di vita sulle lune ghiacciate, giù una possibilità di vita. Infatti abbiamo visto che queste tre lune, Ganimede, Europa e Callisto all'interno possiedono un'oceano di acqua liquida, probabilmente. Ecco, questa è importante perché come Juno ha dei pannelli solari, infatti li vediamo anche qui in questo disegno, questa foto. E' anche importante perché è la prima missione finanziata interamente dall'Agenzia Spaziale Europea, quindi senza l'aiuto degli americani, dall'ESA che è l'Agenzia Spaziale Europea. Con questo ho finito la puntata di oggi, spero che il video vi sia piaciuto, al prossimo a sto cocktail. Spaziale Europea Spaziale Europea